Sono venuto a riprenderlo, mi serve a governare le pecore e a custodirle. Ma se non ha messo nemmeno le penne? In casa mia non mangerai senza produrre. Vediamo se sei forte come un uomo. Alzati. No. Tu non puoi mica darmi ordine? In questa casa io sono il padrone e sono tuo padre. Per te capito, lo faccio. Sono venuto a riprenderlo, mi serve a governare le pecore e a custodirle. Ma se non ha messo nemmeno le penne? In casa mia non mangerai senza produrre. Vediamo se sei forte come un uomo. Alzati. No. Tu non puoi mica darmi ordine. In questa casa io sono il padrone e sono tuo padre. Per te capito, non lo faccio. Non c'e' Grazie a tutti.